Il mio sogno è poter comunicare quello che riesco ad imparare in matematica e in musica e unirle insieme. Ho sempre sognato di fare l'architetto fin da piccolo, mi è sempre piaciuto osservare i palazzi e le varie opere d'arte del mondo e spero di fare questo da grande. Il mio sogno è fare il doppiatore perché fin da bambino, mentre guardavo un film o un cartone animato, ho sempre apprezzato il lavoro di doppiaggio che serve appunto a ogni scena e da un elemento che la gente di solito non nota. Il mio sogno è lavorare a capo di una grande azienda e perché no, mi piacerebbe che l'azienda fosse mia, ma la cosa più importante è che vorrei restare qui in Italia. Grande vorrei fare la logopedista, iscrivermi all'università, entrare che è dura e poi fare logopedia e poi cercare di lavorare all'interno del mondo dello spettacolo con la logopedia. Il mio sogno è diventare ricercatrice e studiare gli ecosistemi marini e acquatici. Il mio sogno è trovare un lavoro inerente al campo dell'elettrotecnica da potermi assicurare un futuro erosio con la persona che amo. Il mio sogno della vita è studiare medicina, viaggiare tanto ed essere molto felice di quello che faccio nella vita e poter viaggiare tanto, conoscere tante persone, tanti luoghi e poter avere tante esperienze che mi renderanno alla fine contenta di quello che faccio. Il mio sogno è quello di frequentare un'università, in particolare quella di medicina veterinaria perché mi piacciono tanto le capre e i gatti e con questo vorrei formarmi una famiglia e basta. Grazie a tutti!